Ciao tigrottine, ciao tigrottini! Allora, questo sarà il videotag del C'è per tutti i mesi di settembre ed è in collaborazione per la prima volta con Naty Kiss che è una ragazza strepitosa, quindi vi consiglio il suo canale gli mando un grosso bacio e comunque vi scriverò tutte le cose cioè il nome del suo canale o nell'info box o qua da qualche parte perché è davvero da andare a vedere perché è una ragazza strepitosa qui gli voglio il mondo di bene insomma Allora, iniziamo, canzone del mese Allora, tutto Technium e tutto Panna X di One Direction in più music e vabbè, tutte le canzoni di One Direction quest'anno, quest'anno questo mese ne ho sentite davvero tutte Poi, che confusione Credo che comunque la conoscete in molti Poi, congiunzione astrale Dimentico tutto Double Take Girlfriend E Kill E quindi queste erano le canzoni del mese Poi Profumo del mese Questi due della Bon Bon Ovviamente, ve ne ho parlato tutto il mese Melody e Milkshake E questo, buonissimo Al Papavero Suave E' fatto così Davvero sono strepitosi e Mi piacciono davvero tantissimo Poi Film del mese Allora, ne ho visti tantissimi Il Padre della Sposa Viaggio di Nozze Carissima a me Tutte e tre film di un diario di una schiappa Davvero tantissimi film Però quello che mi è piaciuto di più E' che mi va Di mettere al primo post This is us The One Direction Che, mamma mia E' stato bellissimo Accessori del mese I miei due braccialini Questa volta ne ho messi due Questo mese Poi Relazione Sempre fidanzata Scuola E' iniziata scuola E' tutto bene Stiamo più che altro ripassando E stiamo cominciando a studiare le prime cose Tutto a posto Anche se cominciano già a metterci paura per gli esami Eh no, perché dovete avrete gli esami Questo, quest'altro Quindi Così Cinco del mese Vabbè, questa che La amo La crema alle nocciole Della Conad Che non è proprio uguale alla Nutella Però è molto buona Ok Poi Scarpe del mese Queste Queste da ginnastica Così Molto semplice Insomma Trucco del mese Questo mese mi sono truccata tantissimo Allora, intanto Mettevo la Nivea Cream Il fondotinta Questo della Kiko Che amo Il numero 01 Poi Il gloss Questo della Rimmel London Questo della Yamamei E vabbè Poi il mascara E gli ombretti Capelli del mese Lisci Normali Doccia Time Doccia Time Ho Usato questo nuovo shampoo Che avevo già a casa Quando mi è finito l'altro Era domenica Quindi Non potevo andare a Comprarmi uno nuovo E quindi ho usato questo Che è della marca Miglio questo Ok E come balsamo Questi due Aspettate che stanno Amicati tutto Perfetto Questi due Dell'ultra dolce Poi Come bagno Bagno schiuma Invece Questo qua Della Solo Soprani Solo frutta La fragola Che è buonissimo Davvero È tra i miei bagno schiuma Preferiti Perché Ti liscia proprio la pelle È stupendo Poi Smalto del mese Ne ho messi due Questo è della Yamamei Rosa Ed è il numero 06 E poi ho messo questo Che ho anche adesso Che è della Rimmelondo Numero 620 Effetto mare Bellissimo Poi Smalto del mese La cosa più bella E la cosa più brutta Allora La cosa più bella È che Sono riuscita a prendere I video dei One Direction Per il concerto E io sono troppo felice Poi Un'altra cosa bellissima È che Sono andata a vedere Il loro film Sono andata a Maccarese Con una mia amica Una settimana All'inizio di settembre Ho detto troppe cose belle Sono troppo felice La cosa più brutta È che Purtroppo Sono finite Le vacanze Prodotto del mese Quelli che vi ho fatto vedere Ma soprattutto Questi due gloss Che mi ha regalato Mia madre Della B-Shift Mi piacciono tantissimo Poi Prodotto del mese Figura di Bip Allora Ne ho fatte due Intanto Stavo al mare La mia amica Si comincia a cantare Tanto così Tanto per fare la pazza Le tagliatelle di nonna Pino Ma si può E mentre andavamo C'ha visto un ragazzo Io mi sono vergognata Anche se era lei a cantare E poi Stavo andando a scuola C'è un forno Dove prendo la merenda La pizza E c'era una ragazza Che mi sembrava Una mia amica del centro estivo Allora io ho fatto Ciao Milè Pensavo che era appunto Questa mia amica Che si chiamava Milena Invece Le mi ha guardato male Perché dopo un po' Mi sono resa conto Che non era lei Sono proprio un genere Poi Iscritti del mese 200 Le ho controllati oggi Sono 218 Che ringrazio Grazie di tutto Foto del mese Ve la faccio vedere A fine video Parola del mese Esatto E One Direction Fissazione del mese One Direction Il concerto Prodotto make up Vi ho fatto vedere Il gloss Se ora vi faccio vedere La foto un attimo Vado a pescare Perché comunque L'ho messa su Instagram E è davvero Una foto meravigliosa Secondo me Che adoro Ok Allora La foto del mese La foto del mese La foto del mese Ecco Questa con Le sagome Le sagome The One Direction Al cinema Non si vedrà niente Lo cedere così Si vede qualcosa Ecco Non so Se si può vedere Vabbè comunque Ci sono io Con le sagome The One Direction E la mia stupenda maglietta Spero che il video Vi sia piaciuto E vi mando un bacio Ciao Ciao Ciao